Ciao ragazzi oggi vi faccio vedere un coltello molto particolare, il termite di Neander Tart una lama estremamente robusta progettata per tagliare e per spaccare legna senza pensieri ciò che rende questo coltello speciale è che è realizzato interamente a mano il maker è il mio amico Dario Trifelli, un moccioso impertinente che però si è subito imposto sulla scena con dei lavori mostruosi nel giro di pochi anni è migliorato ulteriormente, ha conquistato il cuore di tanti appassionati e adesso vende pezzi d'acciaio come se non ci fossero domani ciò che rende questo coltello ancora più speciale è che è un esemplare che Dario ha realizzato per se stesso per utilizzarlo lui, purtroppo l'ha lasciato incustodito e adesso ce l'ho io purtroppo per lui ma tanto meglio per me e per voi perché adesso ci divertiamo un po' a provarlo tengo a precisare che non si tratta di una recensione, sono io che gioco con il coltello oltretutto gli esperti hanno sentenziato che io di coltelli non ci capisco niente e se lo dicono loro cacchio c'è da crederci quindi questo video prendetelo così, con leggerezza qualche dettaglio tecnico così, giusto per atteggiarmi la lama in acciaio Neolox lunghezza 13 cm, spessore 6,3 mm con profilo full flat dicevo che è un esemplare che Dario ha realizzato per se e a questo punto aggiungerei, si vede sobrietà non pervenuta manico con doppio grip in una ghiacciante G10 Coyote spaziatori in una tonalità di verde che non esiste in natura né in nessuna delle galassie conosciute dall'uomo aspettate che non ricordo, non mi ricordo manco il nome Neon Green al di là delle mie considerazioni estetiche del tutto personali e anche un pochettino irriverenti lo ammetto c'è da dire che il ragazzo ha molta fantasia non so se avete osservato per bene i grip adesso ve li faccio rivedere per sicurezza Desert Rose più Dragon Skin questi sono grip ideati e realizzati da Dario la sua mente partorisce idee malsane e le sue mani le trasformano nella cruda realtà non si vedeva una roba del genere dai tempi della sfera di controllo AccuGrip dello Chef Tony di cui Dario ovviamente non sa nulla perché quando passavano in tv le televendite della Miracle Blade lui non era manco nato ci vuole coraggio per mettere due pattern diversi sullo stesso manico perché è una cosa che va contro tutte le leggi dell'armonia e dell'estetica d'altro canto senza coraggio nella vita si combina ben poco la buona notizia è che la texture del manico potete scegliervela al momento dell'ordine potete decidere di lasciare liscio il manico del vostro coltello come ho scelto di fare io con il mio Lucy Evo oppure potete farvi consigliare da Dario un grip che si adatti alle vostre esigenze e soprattutto alla pellaccia delle vostre mani ripeto Dario realizza coltelli artigianali, li fa lui completamente a mano quindi avete la possibilità di fare un minimo di personalizzazione nel frattempo mi è arrivato il sole in faccia e sono diventato tutto bianco quindi mi devo spostare e niente che altro aggiungere per quanto riguarda l'estetica c'è sto pisello che spezza un po' le linee e sta a fare qua sopra che non si sa manco che cacchio è serve solo aggraviarvi le dita ma passiamo ai test che è meglio non mi metto a fare il test della carta ragazzi perché il coltello non è nuovo di zecca è già stato utilizzato e quindi non ha senso andare a verificare l'affilatura di fabbrica che in questo caso non è di fabbrica, è artigianale passo direttamente al test del try stick che di solito utilizzo per fare amicizia col coltello per prenderci un po' la mano e vedere come si comporta nelle operazioni di intaglio a presto Grazie a tutti. Eccolo qua ragazzi il Tri-Stick, è un bastoncino su cui vado a realizzare tutta una serie di intagli che sono quelli più utilizzati nel campeggio e nel bushcraft. Non è un coltello pensato per l'intaglio, fino a qua ci arrivo pure io, questi lavori si fanno molto meglio con un coltellino di piccole dimensioni, però diciamo che all'occorrenza fa il suo lavoro. Personalmente non adoro i grip, preferisco un manico liscio, però devo dire che questi qui non mi hanno dato fastidio. Sicuramente il Dragon Skin, che è questo qua, è meno aggressivo del Desert Rose se lavorate a mani nude, senza guanti. State ancora guardando? Eccellente! Adesso passiamo alle operazioni per cui questo coltello è sicuramente più portato, ossia il chopping e lo spacco, che seguirò rigorosamente su legna finta di polistirolo, come mio solito fare quando testo i coltelli. Ecco, ecco, ecco. penso che si sia capito che non sono un asso nel chopping è un'operazione che non faccio quasi mai oltretutto questo coltello ha la lama abbastanza corta quindi non è proprio ottimizzato per il chopping d'altra parte ragazzi il coltello perfetto non esiste o meglio il coltello perfetto è quello che si ha a disposizione nel momento del bisogno e gli attrezzi vanno anche un po' saputi utilizzare quindi cambio tecnica ne utilizzo una che mi riesce un po' meglio una anche più adatta alle caratteristiche di questo coltello non è un po' più Invece di battere col coltello lo appoggio e batto sul coltello. Come vedete si fa molto prima e ragazzi lo taglia di netto. Guardate la pulizia del taglio, questo è un tronchetto di 3 centimetri, lo taglia di netto, pauroso, adesso continuo perché ho preso gusto. Mamma ragazzi che divertimento! Non potete capire come penetra nel legno, è una cosa incredibile, va come un treno. Non potete capire, non potete capire. Questo è il faggio, un po' più strong. Non potete capire, non potete capire. Ora passiamo allo spacco. Non potete capire, non potete capire. Non potete capire, non potete capire. Non potete capire, non potete capire. raga entra dentro proprio di prepotenza. È un maledetto cuneo. Non potete capire, non potete capire. ciò che questo coltello sa fare meglio è sicuramente lo spacco. D'altra parte, con un profilo e uno spessore del genere non potrebbe essere altrimenti. Come avete visto, le due parti del ciocco non vedo l'ora di andarsene ognuna per i fatti propri. Sul shopping, a mio modesto avviso, siamo un po' stretti per via della lunghezza della lama. Ci vorrebbe qualche centimetro in più in modo da spostare il peso in avanti e lavorare in maniera più efficiente. Nulla vieta di impugnarlo in questo modo, quindi con la presa arretrata. E di fatti Dario ha posizionato il grip, quello un po' più grippante, scusate il gioco di parole, su questa parte del manico in modo da poter fare questo lavoro. Io non mi ci trovo, preferisco usare l'altra tecnica, quindi appoggio il coltello e batto. In pratica diventa un batoning sul taglio invece che sullo spacco. Però se vi piace menare e soprattutto se ne siete capaci, buon per voi. In descrizione trovate i profili social di Dario che potete utilizzare per contattarlo se volete acquistare un coltello da lui. Trovate anche il link del mio secondo canale nella mia pagina influencer di Amazon. Io vi ringrazio ragazzi per essere stati con me ancora una volta, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.